Come si suol dire si mangia polvere Se non riesci a farlo questo prova questo ok Abbiamo una bella combo occhio Un momento stretto al corpo 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 È avanzata quindi Voi potete anche smettere E riposare un minuto Noi proviamo a fare la seconda Tu che stai facendo? È dura È dura ragazzi Sì questo è tosto Un momento stretto al corpo Come si suol dire si mangia polvere Un momento stretto al corpo Un momento stretto al corpo